Ok, livello 4 Ok Ehi Marco non ho più rocce per avanzare, cosa faccio? Non è la cosmonave, c'è una cosa nuova Non preoccuparti da questo, il saltamondi è diverso dal coso È uno dei veicoli della polizia galattica, va bene Ok, vai al gioco, non so io come usarlo Toccate il saltamondi per farlo saltare più in alto al momento, giusto? Stimiamo un po' l'incuratura, è bello Ecco, super green balzo, meglio se non lo usiamo però adesso Non direi vero è divertente usare, no, non male Uh, cosa abbiamo qua? Ha ha ha, netto Venti sta stronzo, non babbo che non sei Dai Ma porca Ci abbiamo fatto, dai, saltamondi è carino da usare Molto più divertente della cosmonave, se non è Ma è la cosmonave però più figa Ok, ci rivediamo al prossimo video con livello 5 Grazie a tutti Grazie a tutti